C'è in corso una tempesta di merda qui, tesoro. Tu non hai idea di che razza di porcherie stanno facendo e la gente va in giro come se fosse in un cazzo di video di Enya. Rimarranno tutti fregati e lo sai, tu lo sai di che cosa si preoccupano del baseball o di quale attrice sta in clinica a disintossicarsi.